Benutti amico per in guerra sono usare se questo video su warhammer batmanci questo giusto prima visto che vengono di nuovo scaven verso la spina finale che dobbiamo andare con calate e le sue last we draw near the high elf which my vengeance is at hand mistress leleith we approach the hated enemy but many enemy war machines have been cited they could be problematic perhaps I could take care of this obstacle mistress if it pleases you I shall take the witch elves the devoted brides of Cain and silence the crude human engines of war that threaten your glorious army ensure that you do assassin I have not the time to wait for word of your success the army must advance before the high elf which learns of our presence here the outcome of the battle depends on you do not fail me it will be as you command noble mistress mmm perfetto battaglia oh no aspetta allora se lo faccio sì aspetta 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 perchè non non ness... devo un attimo riuscitare oh... ok... ok... così... ok... ok... così... ok... vabbè... 26... 4 livelli... eh... ffff... avete il Murrayrichkkow ok... ok... tre qua... ahvola ancora! e qua noro ancora! e qua c'è un bellissimo Tuorraket cosa ammettiamo loro ok? il nostro bellissimo... abbichetto da tu... cosi ok... andare adesso sennò se battaglia prima dell'ultimo e non posso non ho nient'altro andiamo in battaglia eccoci qua ok poi andiamo a fare il... stilt si stilt le vote guerriere di kane le vote guerriere di kane insomma essere elfiche in qualche parole spero che non finino con... cioè la caffè con ieri più scuri perché mi dovrebbe assai fastidio perché una cosa sono ieri più scuri in realtà fuori sono gli orchi oh ok allora dov'è? no tu vorrei tu vorrei tu vorrei con... no non è qua no non posso andiamo a dire qua allora aspetta marcia verso l'area ben difesa aspetta guardate la difesa faccio il fiore posso passarlo ma che è questo? i elfiche scuri? riuscite l'alarm ieri ammazzate ammazzate non mi dirai che l'ho già finito non mi dirai che l'ho già finito che se li manda fa adesso C'è un ufo? Posso sparare? Oh eccolo qua! Ammazzatele! Cosa sta avendo? Cos'è? Cosa sta avendo? Ammazzatele tutti, per favore! Andro a risparmi, guardia il palazzo. Anche no, con la magia. Cosa sta avendo? non c'è un città che c'è di merda ah non è ancora me eh sono morito non c'è un agro ok ammazzate ok ma non c'è resta parte oppure ho livellato quindi potremmo anche così ecco così ok qua c'è difesa spero che non ci sono mi puzza di canonieri ahah canonieri sembra quello di che c'è dove let none of them live canonieri they have not been silenced calythe you have betrayed me we must breach their line or all is lost they draw within range comence the bombardment comence the bombardment comence the bombardment se non so così non mi muore becce 5 Magia Ok Dipendiamo Subo un po' qua Oh Ma Forse che lei Il Forse l'elfo scuro Ha veramente Tradito Cos'è acqua? Ho pensato fosse cosa muovesse Allora ci muovevo così fino a qua Così Cosa c'è Cosa non ci serve Non ci serve Come and see Come and see I'm waiting Come and see 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 RAN questi dannati ci muoviamo per favore eccolo qua caricare per favore questi rai più oscuri tanto di gente quanto stupidi la stagione il nostro delle 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 Perchè me la? Prenderà tu. Questo è quello che ho desiderato. Prendi la. Tuoi rispondono per l'ultimo. Pathetic fools! Prendono il mio potere! Oh, che è successo? Ho desiderato più scambi. In questo modo. Il nostro bellissimo amichetto. Che stai guardando nessuno. Ok, questo è guardato avanti. Mi stanno ammazzando. Talmente si comincia ancora. Sarebbe una bella cosa. Fino a qua. Quindi muoviamo il nostro bellissimo. Oh no, fermi. Fino a qua. Come dire il nostro. Sì. Sì. Cacchio. Vedo a 30. Anche lui sta aumentando. Ma vaffanculo. Ti hai i Drukai. Cacchio. Stanno sparando. Ammazzatele. 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 Il enemy patético ha stato incontrato. Mi arrivo a farlo. Mi arrivo a farlo. Advanta a mia commande. Fire, fire, fire. Più sacrifici al king. Ammazzatele. 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 Perfetto. Qui ce va? No, a strastanza ragazzo. Dov'è? 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 Il pink va giù. Ok, ma oggi qua. Intanto che arrivano... Ok, dai galera. Portiamo un attimo gli alcieri. Gli alcieri qua. Si curano. L'animo intenzione di sfruttare contro te. Si curano? Ammazzatele. Oh, che variare. Morite. Più sacrifici al king. Più sacrifici al king. Mi divino assicurato di questa terra. Swift sarà il mio piede. Mi fanno semplice. Ok, fanno semplice. Mi fanno semplice. La morte viene al king. Più sacrifici al king. Sotto. Non c'è la morte. Non c'è la morte. Un'animo. Non c'è la morte. Non c'è la morte. Il tuo guerriere ha battuto alla fine. Chi è morto? Poi, non c'è la morte. Questa terra sarà un'esplice con il sangue. Non c'è la morte. Non c'è la morte. Tuoi ordine non c'è la morte. Mi chiedo più di scampi. Il grande intervisto. Non c'è la morte. Sotto. Non c'è la morte. Mi abbraccio. Qui mi abbraccio. Ma, inizia. Non c'è la morte. Niente. Non c'è la morte. Spero che riusciamo a stante demorare a 60, 50, 59. Ritorniamo qua un attimo. Queste landi che mi cura. Spero che c'è una svolta in questa campagna. C'è, insomma, sono tre. Un'ordione? Ritorniamo qua. Dopo aver uscito quasi tutti, c'è 40, 40. Sono 28, 20 del Cielo, ma non... La strega! Dove la vedi? Come solo Sigmar è il mio notizio. Spero che nessun tipo di fulgine dovrà lasciare questo posto vivere. Ok, minracci di morte. Il ping per me è giù. Ok, tiriamo con la maga. L'anime potrà incontrare contro te. Io ho ammazzato la più complessa delle strade. Algo per me? Il profondo è stato incontrato. Molto. Questo non può essere fatto! Mi ha fatto un sacco di pellizzo tutti, ma non posso essere fatto. Ok, sono tutti. La mia scuola è pronta. Sì, sì, signori, ho visto un danno a parto. Ciavolo. Vuoi ammazzarlo? Vuoi ammazzarlo? Ciavolo. 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 Lui andrà. Ciavolo. Certi就會 fiascarsi. Più sacrifici per te vettigli. Per il fungo per la sangra. Ciavolo. Presto il primo ultimo. Se riesco a beccare. Sai bene. Assai bello. Un sacco. ammazzare tutti questi bastardi ho studiato le scuole ammazzare inizio queste strade saranno più sacrifici per Cain per centrii abbiamo curato i nostri ammazzati Ok, ora ci siamo aspettati, muoviamoci qui, posizioniamo questi canonieri Ok, non ci siamo assaggiati, credo ci saranno con questi, ma credo che sono schierabano Prendere la schiena, c'è un lingue di tutto, c'è un lingue, c'è un lingue Ok, prendi, no, prendi tutto, che ti serve Ok, adesso, ecco qua Ehm, mi ha chiuso questa qua, sono Caput, 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 Caput Queste landi saranno fatti Sì, ho capito, questo non era ben difeso, dove è fino a qua? O fino a qua? Questo è il mio dilemma Dove che devo mettermi? Stanto a te la levo, ho tentato a te la levo, mamma mia E' un pin, non so questo Ok Ammazza 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 tutto Oppa Ok, quello è volato via con la freccia Questa è nuova Ammazziamo Ammazziamo i canonieri Ammazziamo i canonieri Chiudo Spara, spara, spara C'è da andare fino a qua, per caso? Questo è un mura o vecchi castelli George Bene giornata, sì, bene giornata Eh sì, c'è qualcuno che arriva? No? Non arriva nessuno Vado? Vado? Vado. Dio. Vado? 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 Ah, pietre d'animo. Che sarebbe? Te d'ora. Va boh. Da di qua. Oppure qua. Ah, 27. Ha livellato. Così velocemente. Diciamo che aveva perso 70 tanti uomini. E forse l'assassino è stato ucciso. Sperando è meglio. Allora, l'obiettivo era... Marche deve essere tale... L'idea deve essere breve. Questa è la protetta. Quindi... No, qua. Ah, ok. Stai, stai il problema. E dove? Ah, ecco... ok. D'amore dovrebbero essere tale... D'amore dovrebbero essere tale... D'amore dovrebbero essere tale... E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Mi è riuscita a farlo. Il l'inforza si è riuscita a te. Ok, perfetto. Eccoci qua. Oh! Tu moris. Tu non hai nessun concetto del potere che ho ottenuto! Oh, è interessante. Ok, cominciamo. Ok. Cosa c'è? Oh, ok. La sto prendendo. La sto prendendo. Mi prendo quella. Uh. Aia. Mi sta prendendo pure lei adesso. Aia. Aia, matto. Ti prego. Mancato, mancato. Perfetto. Dai. Dai. Usa la mostra. Oh, è oggetti. Perfetto. Oh, si. Grande. Grande. Peccato. 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 Yes. Dove la.... tipa? Invece no. 어. Okay. cosa succederà se riusciremo se l'emissione campagna è tutta saturata sui fioscuri a me non va odio mi sono mi stanno come sapete benissimo ieri più stanno qua o mi stanno beh sono forti tutti ma anche stupidi di violenza inumane un semplicito loro lo diamo spina fra stagliata ok un attimo devo tornare i miei rinchetti 124 adesso questi non perfetti spero che tu la che si qui c'è oh non ho solito il capitano un capitano camerate mi servirebbe a oh cazzo di nagalotte un'ora mi sono mancati a dopo c'è guarda se la lente si chiude vediamo se c'è qua probabilmente è giunto loro che abbiamo detto è battaglia no ritirata ok allora ci manca questo la lente si chiude è uscito al finale conseguenze ho preso forse Gorbats quello so prendendo no Gorbats è qua spero che Gorbats li faccia a pezzi sto tipo mi sta su le parole sono altre parole bene come è come era da oggi vi saluto e spero che il prossimo video iscriviti commentate un bel mi piace su e se più giusto se più giusto sto video commentate se mi piacciono qualcosa come giocare gli erifi oscuri come la campagna e intratto ci si vede ciao